Professor Lombardo, questa interessante iniziativa, questo progetto che avete oggi presentato con l'alberghiero va nella direzione di un'alimentazione sana, si parla di dieta, mai come oggi importante anche nel periodo natalizio? Sicuramente sì, noi pensiamo di portare avanti questo discorso proprio in questo periodo come regalo di Natale alla popolazione la prevenzione oncologica nelle scuole, che è un progetto oltre che dieta sia per quanto riguarda la prevenzione primaria ma anche per la terziaria, per i pazienti che si sono già ammalati di tumore, e soprattutto un progetto a largo raggio che coinvolge anche dei progetti nazionali che sono numerosi, in particolare ne sono due, che sono diretti a tutte le scuole, a cominciare dalle scuole dell'infanzia fino ad arrivare alle scuole superiori. E questi progetti sono guadagnare salute con l'ILT, poi c'è il progetto dei 50 sfumature di prevenzione e poi c'è il progetto molto molto importante che stiamo realizzando già da un paio di anni, guadagnare salute con l'ILT. L'educazione alimentare costituisce il grande obiettivo del nostro sistema formativo, in particolare del nostro istituto alberghiero, ma l'educazione alimentare noi non la intendiamo soltanto come educazione nutrizionale, come un fatto puramente scientifico, ma la intendiamo come educazione valoriale, quindi educare ad un'alimentazione che sia equilibrata, sana, sostenibile, ma più in generale educare ad un stile di vita che sia corretto e che quindi possa prevenire delle patologie. E allora si chiama cultura della prevenzione e allora il nostro obiettivo è proprio quello di promuovere attraverso un'educazione ad un corretto stile di vita una qualità migliore della vita e quindi il benessere per i nostri ragazzi.